In questo numero del Salus Tg. Al Niguarda di Milano il primo trapianto di fegato in Italia da un donatore a cuore fermo. Mangiare male è la prima causa di morte prematura nel mondo. Con la dieta mediterranea e l'uso extra di olio d'oliva diminuisce il rischio di tumore del seno. Primo trapianto di fegato da donatore a cuore fermo in Italia. L'operazione è stata eseguita all'ospedale Niguarda di Milano su un uomo quarantenne con un organo prelevato da una persona in arresto cardiaco. Si tratta di una tecnica finora mai usata nel nostro paese a causa dei 20 minuti, 5 nel resto d'Europa, che la legislazione italiana prevede debbano passare da quando il cuore smette di battere alla dichiarazione del decesso. Un periodo di tempo lungo nel quale il fegato rischia di compromettersi, di non essere più utilizzabile. La svolta è legata all'applicazione di una metodica, la circolazione extracorporea ECMO, impiegata normalmente nella rianimazione dei pazienti. È stata così mantenuta la temperatura corporea del donatore ed è stata garantita l'ossigenazione degli organi. Mettere in tavola i cibi sbagliati, troppa carne rossa e molte bevande zuccherate e quantità insufficienti di verdura, cereali, frutta fresca e secca è la scelta che uccide prima del tempo il maggior numero di persone nel pianeta, aumentando l'incidenza di malattie cardiovascolari, ictus e diabete. In particolare l'ipertensione, killer diretto numero uno, ha tre fattori di rischio chiave proprio alla dieta scorretta, insieme alla vita sedentaria e all'obesità. A riscrivere la classifica dei sicari della salute è un maxistudio statunitense. Olio d'oliva non solo per insaporire i cibi, ma anche per prevenire il cancro al seno. Secondo uno studio spagnolo condotto su 4282 donne tra i 60 e gli 80 anni con un alto rischio di malattie cardiovascolari, il condimento più amato dagli italiani, utilizzato in dosi extra all'interno di un regime alimentare che segue le regole della dieta mediterranea, sarebbe infatti responsabile di una riduzione del 68% del rischio di ammalarsi di questa neoplasia rispetto al gruppo di controllo.